Questo sito ha mischiato un po' peggio, quello stava per te e è arrivato un po' una scarpata, ma guarda, Iden è steso, è andato sotto, sai che gli ha detto ti pensai perché Sir Black io sono ignorante di Viterbo, ma Iden è che capiva, che capiva io a ridere come un matto, io a ridere come un matto, sono ignorantone di Viterbo Quando siamo andati a giocare con gli Arlequins, c'era pure lui, alla fine del primo tempo quando Lucio aveva fatto tutto il discorso che parlava, c'è in pratica di oggi ha tirato tutti i veneti, tutti i giocatori veneti, però avevano fatto una clausola per me e Prosutti perché non eravamo veneti per farci giocare. Non si notava neanche comunque, non si notava Allora, Boccaletto fa tutto il discorso, noi stavamo lì e la partita era giocata, ce la stavamo a giocare, tutti lì lì, alla fine Lucio ha finito il discorso e poi ha fatto questo, ah raga, famo io e vede che siamo tutti veneti, mi hanno guardato, ma mi è figato male! Oh, sarà figo, a proposito dei discorsi, di chi è il discorso che ha fatto Mariani? Mariani! Prima della partita con Rovigo! Partito decisivo per vincere il campionato, infatti poi l'abbiamo vinto, quella volta che il Roblo cacciò fuori quello Oste, Oste famoso che stava appoggiando la meta, quello l'ha alzato, l'ha levato dalla manierina, l'ha levato dalla manierina, l'ha levato dalla manierina, l'abbiamo vinto, la partita abbiamo vinto pure il campionato quella volta, e prima della partita c'è stato un ambiente tesissimo per i due spogliatori, immagine tu, era decisiva, guardi se c'è stata la fotografia, stiamo tutti con la faccia, arriva a... Ha voluto dire la sua? Ha fatto un discorso Serafino mi sembra che fece parlarti, no? Nessuno riusciva a parlare, Serafino disse due parole, che sono ragazzi importanti, una cosa normale, e noi stavamo uscire, Mariani, dall'alto della sua imponenza, no? Ragazzi, tutti qua, tutti qua, no ragazzi, alla marzicana l'ha detto, guarda, 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 io non lo so parlare, guarda, bagliule, bagliule, perché noi parlo a marzicana, guarda che dall'alto dei zani è diverso, molto diverso, allora mi fa, venite da tutti qua che devo fare il discorso, devo fare il discorso, e noi ci mettiamo tutti qua insieme, tutti così, e aspettai che fece questo cazzo di discorso, fece qui, e non ballava, oh, l'arbitro fischiava, ma questo non ballava, non ballava, ma questo discorso, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, nove, no, ma va, perché se invece, ma va a fa' culo, ma va a fa' culo, ma va, c'è tutta la, l'attenzione, no, ma sai perché, un periodo, c'è la rapidudine, di contare fino a dieci, di contare, ma corretto, adesso faccio, uno, due, tre, ma si mette le pute le pute le pute le pute le pute, la carica è andata, ma lui l'ha fatto scogendo, ma ora, ci ha messo l'ora per arrivare a dieci, l'ora, uno, due, tre, allora non se ne va, ma va a fa' culo, ma va a fa' culo, Grazie a tutti.